Ben trovati a questa nuova edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito quali sono gli argomenti del giorno. In primo piano la cronaca, la donna di Sulmona che era stata arrestata per innumerosi furti, ha evaso per la seconda volta e torna ai domiciliari. La 39enne di Sulmona è stata fermata dalla polizia ma la misura cautelare resta la stessa. Per i particolari seguiamo il servizio di Andrea D'Aurelio. Dopo l'evasione dei domiciliari dovrebbe scattare la custodia cautelare in carcere, ma il magistrato ritorno della Procura della Repubblica di Sulmona ha deciso di adottare una misura congrua a reato commesso. Ed è così che è di Gila, 39enne di Sulmona, finita prima dietro le sbarre e poi i domiciliari per furto, e sarà fermata questa notte nei pressi di via della Cona da una volante della polizia che stava perlustrando la zona per un normale controllo. La 39enne quindi evasta dai domiciliari per la seconda volta, proprio come aveva fatto nel mese di agosto, ma allora fu per paura del terremoto, come dichiarò al giudice nel corso dell'interrogatorio di garanzia. Ottenne quindi i domiciliari dopo essere finita nel carcere di Teramo con l'accusa di furto, in forza di una valutazione effettuata dai sanitari dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila, dove era stare presa in carico, secondo i quali era capace di stare in giudizio, ma la difesa portò davanti al giudice una certificazione che testimoniava l'accumulo di diverse patologie nel corso degli anni, tali da configurare la probabile incapacità di intendere e di volere al momento del fatto, cioè il furto al mercato in zona tribunale. Nel 39enne quindi fu ristretto ai domiciliari e ottenne l'alleggerimento delle misure cautelare, ma da allora è stato un accavallarsi di situazioni spiacevoli. Prima la lite con la coinquilina cardiopatica, chiusa con la presa in carico presso il pronto soccorso dell'ospedale di Sulmona, poi l'ospitalità data al 38enne di Raiano, processato e condannato per direttissima per esistenza pubblico ufficiale. L'altra notte è tornata in gioco personalmente, quando ha deciso di evadere dei domiciliari, ma è stare affermata di lì a poco dalla polizia. Al momento si trova di nuovo nella sua abitazione, sembra regime degli arresti domiciliari, in attesa che il caso si risolva definitivamente, almeno si spera. Entra nel vivo da oggi, dopo il deposito delle candidature, la campagna per le elezioni dei presidenti delle province che avrà luogo il 31 ottobre. Il Correcom fa sapere che sulle regole da applicare in campagne elettorali, in materia di informazione, comunicazione istituzionale e propaganda, è intervenuto il presidente del Correcom, Comitato regionale dell'Abruzzo per le comunicazioni, Filippo Lucci, rispondendo alle richieste di alcuni candidati alla vigilia dell'avvio della campagna. Il presidente del Correcom ha messo in evidenza una prima importante novità. Queste consultazioni elettorali non si applicherà alla disciplina della par condicio. Lucci ha detto che le elezioni provinciali per il rinnovo dei presidenti sono infatti di secondo grado, riservate ai soli consiglieri comunali. Anche a queste elezioni si applicano comunque i principi generali a tutela del pluralismo informativo. Duello su autostrade e tribunale. La maggioranza prende le difese del sindaco di Sulmona, Anna Maria Casini. Sentiamo nel servizio di Andrea Daurelli. Non prende posizione la senatrice, non si sbilancia, non si propone più come la risorsa che salverà un territorio. Dice che questo è il suo meglio, ma dalle premesse sembrerebbe che non è abbastanza. Dalla messa in sicurezza delle autostrade, la salvaguardia dei tribunali minori, la maggioranza consigliare prende le difese del sindaco di Sulmona, Anna Maria Casini. Il duello tutto a sfondo politico si era consumato nei giorni scorsi fra il primo cittadino e la senatrice Pentastellata. Ma chi della maggioranza è disposto a difendere il sindaco? Questa volta lo fanno tutti i gruppi consigliari, firmando un comunicato congiunto, spedito però dall'indirizzo di posta elettronica di Sulmona al centro. Come vecchi tempi, insomma, quando si firmavano documenti, anche se questa volta non si tratta di un vertici di maggioranza, ma di temi cruciali per la città e il territorio, ci si aspetterebbe da un senatore della Repubblica Italiana un certo stile, oltre che una puntualità nelle risposte che vengono date alle domande, scrive la maggioranza. Entrando nello specifico, notiamo come la senatrice sostenga, come è già fatto dal ministro Toninelli, che l'utilizzo dei fondi del masterplan per la messa in sicurezza dei viadotti fosse avallato da una delibera regionale, che però si limitava a anticipare alcune somme del Fondo di Sviluppo e Coesione che andavano entro l'esercizio di bilancio 2018. Di fatto, dalla lettura del Decreto Genova, c'è il rischio che alcune procedure relative ai progetti di sviluppo per la nostra regione vengano sospese in attesa del reintegro dei fondi di cui non viene data alcuna rassicurazione sulle modalità e sui tempi. Ci aspettiamo che almeno su questo saranno chiari fin da subito, avvertono i gruppi consigliari, che tornano a bomba anche sulla questione tribunale. Ci sorprende vedere come adesso un parlamentare del governo del cambiamento veda di buon occhio le proroghe ricevute dalla tribunale di Sulmona, ritenendole un buon punto di partenza a fronte della doccia gelata derivante dalle parole del ministro Bonafede. Ci limitiamo quindi a ricordare alla Digirolamo che è una senatrice, che non è sufficiente presenziare gli incontri su tematiche locali per risolverle, ma bisogna attivarsi su vari livelli e con vari canali per aiutare il territorio e le amministrazioni, conclude la maggioranza. Intanto ci sono due giorni di manutenzione e strada dei parchi chiude l'uscita allo svincolo di Cocullo. Sentiamo. Due giorni di manutenzione per il viadotto finito sotto la lente del ministero. La concessionaria strada dei parchi comunica che per urgenti lavori di manutenzione dalle 8 del giorno 16 ottobre alle 19 del giorno 18 ottobre sarà disposta la chiusura dello svincolo di Cocullo limitatamente al traffico in uscire dall'autostrada 25 con provenienza da Roma, l'Aquila Teramo e diretto verso la viabilità ordinaria. Conseguentemente, negli stessi orari e giorni, i veicoli provenienti da Roma, l'Aquila Teramo e diretti verso la viabilità ordinaria dello svincolo di Cocullo potranno soffrire degli svincoli di Pescina o di Pratola Pellinia. Il viadotto di Cocullo, come quello di Bugnara, è finito nel merino del ministero delle infrastrutture che ha avviato una serie di verifiche ispettive in tutta Italia all'indomani del crollo del ponte di Genova che ha portato esattamente una settimana fa al blitz del ministro Toninelli. Il concessionario aveva annunciato una limitazione del traffico dopo rilievi ma al momento scattano i lavori di manutenzione necessari tanto da chiudere l'infrastruttura per due giorni. Poi seguiranno altre disposizioni che non sarebbero volte alla chiusura. Intanto arriva una notizia che riguarda la società Toto Costruzioni Generali che realizzerà in Polonia un nuovo tratto della superstrada S61. Sarà, come dicevamo, la Toto S.p.A. Costruzioni Generali a progettare e costruire in Polonia un nuovo tratto di questa superstrada tra gli svincoli di Lomza e Colno. La società che opera già da alcuni anni in Polonia ha firmato il nuovo contratto del valore di 100 milioni di euro che comprende le attività di progettazione e costruzione di un lotto sulla nuova superstrada S61 che si estende per circa 13 chilometri e comprende anche una bretella di collegamento di 7 chilometri con la viabilità locale. Alla cerimonia della firma era presente il ministro delle infrastrutture polacco. I lavori dureranno 37 mesi tra le opere che compongono il progetto oltre a 20 ponti e ai tre nodi stradali spicca un viadotto a doppia carreggiata di oltre 1,2 chilometri di lunghezza composto da 7 campate con luci massime di 150 metri che attraversa il fiume Narew. Il cliente è la direzione generale delle strade nazionali e delle autostrade polacche. E lasciamo quest'aggiornamento adesso torniamo a Sulmona per occuparci di opere pubbliche variazioni di bilancio e centro storico. Dunque il Consiglio Comunale su questa questione è stato fissato per il giorno 18 ottobre. Sentiamo nel servizio di Andrea D'Aurelli. Dalle variazioni a piano triennale delle opere pubbliche alle variazioni di bilancio fra cui quella relativa agli arredi per il servizio di riflessione scolastica e lavori di riqualificazione del centro storico senza dimenticare l'elezione del segretario d'aula dopo le dimissioni presentate dalla consigliera Roberta Salvati come componente dell'ufficio di presidenza all'indomani della seduta ad alta tensione e alla vicenda che vede protagonista l'ex sindaco Bruno Di Masci che è dichettato con un epiteto alla consigliera in un video filmato da una donna in un esercizio commerciale condiviso con mezza città sull'albopretorio del sirio istituzionale del comune di Sulmona è arrivata la convocazione del Consiglio Comunale che si terrà come anticipato da un datigì alle 15.30 del prossimo 18 ottobre dopo l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti si procederà alla prima variazione a programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020 e al relativo elenco annuale 2018-2019 e alle conseguenti variazioni al bilancio di previsione 2018-2020 e all'annualità 2018-2019 si passerà poi alla variazione del bilancio di previsione 2018-2020 prima dell'elezione del segretario d'Aula e dell'interrogazione depositata dalla consigliera Elisabetta Bianchi sui lavori di riqualificazione del centro storico il Consiglio doveva tenersi inizialmente oggi ma poi si è deciso per una convocazione per il 18 vista l'indisponibilità di due assessori comunali adesso ci occupiamo nello specifico del centro storico di Sulmona più personale per la polizia locale il vice sindaco Nicola Angelucci spinge nel frattempo per la pedonalizzazione sentiamo tutto un attimo solo beh mi fanno segno che c'è qualche problema con la messa in onda di questo servizio se c'è andiamo avanti non c'è nessun problema ci occupiamo di una conviviale che si è svolta ieri sera a Sulmona conviviale del Panathlon che ha visto come ospite la campionessa chietina di ginnastica ritmica Fabrizia Dottavio medaglia d'argento alle Olimpiadi di Atene 2004 la Dottavio è stata ospite ieri sera del Panathlon di Sulmona insieme alle rappresentanti della locale società ASD Nicola vediamo il nostro servizio la carriera di Fabrizia Dottavio come insegnamento per le giovani generazioni questo lo spirito che anima la ASD Nicola che promuove la disciplina della ginnastica ritmica nel centro Abruzzo le giovani atlete del club Peligno hanno aperto la serata organizzata dal Panathlon di Sulmona per rendere omaggio alla brillante carriera della Dottavio è stata una carriera lunga ho fatto ginnastica dai 5 25 anni sicuramente le mie gare più importanti sono state quelle fatte nell'ultimo quadriennio il quadriennio che è andato da Atene 2004 a Pichino 2008 e che mi ha visto appunto gareggiare in due europei due mondiali e due olimpiadi e ovviamente il risultato più importante è stato l'argento e le olimpiadi di Atene del 2004 un curriculum ricco di successi che è stato illustrato in un video trasmesso nel corso della serata con le immagini di Fabrizia Dottavio giovanissima che hanno fatto commuovere la campione satiatina un percorso di sport e di vita come incoraggiamento per realtà territoriali come la Nicla che porta avanti le attività dal 1992 grazie alla presidente Loredana Iacobucci e alle istruttrici Nicole e Claudia Di Berardino vedere queste bambine qui questa sera è una soddisfazione grandissima io auguro a tutti un enorme in bocca al lupo il presidente del panatono di Sulmona Luigi La Civita ha messo in risalto in legame con gli altri club e in particolare con quello di Pescara rappresentato dall'ex campione di atletica leggera Gianni Lolli che ha permesso la presenza Sulmona di Fabrizia Dottavio a portare il saluto per il comune è stato l'assessore Alessandro Bencivenga è stata una serata dove la Dottavio ci ha fatto riscoprire i valori dello sport e ha saputo coniugare la sua esperienza con quella di queste giovane ginnaste La Nicla è salita di nuovo in cattedra quando è stato proiettato un filmato sugli allenamenti alla palestra dell'ITIS di Prato la Peligna concluso con un messaggio delle atlete per la loro campionessa Fabrizia come faccio a diventare una campionessa come te? è la più bella cosa che posso sentirmi dire questa sera io non posso fare che un enorme in bocca al lupo posso dare un consiglio che è quello ovviamente di stringere i denti lo sport è lo specchio della vita la vita come sappiamo non è facile gli ostacoli che si incontrano sono tanti anche nello sport queste bimbe già da giovani dovranno iniziare ad assumersi delle responsabilità importanti dovranno essere coraggiose non dovranno aver paura di sbagliare quindi è questo il messaggio che gli voglio dare tanta passione e tanto coraggio ZAC cerca scrittori e giornalisti in un libro finiranno i migliori elaborati noi abbiamo intervistato il direttore Chiara Buccini la testata di ZAC7 cerca scrittori e giornalisti i migliori elaborati finiranno in un libro il direttore responsabile Chiara Buccini ci spiega un po' il senso di questa iniziativa ecco come è nata e soprattutto quali obiettivi si prefigli grazie Andrea di questo spazio l'iniziativa è nata perché ZAC da quando è nato il nuovo ZAC abbiamo sempre puntato molto sui giovani sui nuovi talenti e sulle professionalità del territorio abbiamo bandito questo concorso per attrarre l'attenzione anche di giovani e di meno giovani ma di persone che hanno il pallino della scrittura che per vari motivi non hanno mai provato a mettersi in contatto con il vero mondo dell'editoria noi diamo la possibilità al termine del concorso innanzitutto vorrei dare se mi consenti delle notizie tecniche il bando di concorso è scaricabile sul nostro sito internet www.zac7.it ed è il termine ultimo per mandare gli elaborati il 10 novembre ci sono delle varie sezioni poesia, giornalismo e narrativa inedita qual è l'obiettivo Andrea? è pubblicare gli elaborati ritenuti migliori dalla commissione quindi verrà pubblicato un vero e proprio libro da un vero editore e quindi chi non ha mai avuto l'opportunità per vari motivi di pubblicare un suo libro avrà la possibilità di far parte di un'antologia e questo proprio per agevolare gli scrittori, i talenti del territorio e noi abbiamo promosso il nostro bando un po' ovunque anche fuori i confini della Valle Peligna quindi diciamo ancora un mese per inviare testi ed elaborati chi può aderire al concorso? tutti, non abbiamo messo limiti di età e di nazionalità persone italiane e straniere di qualsiasi età ovviamente gli elaborati devono essere in lingua italiana però e poi c'è tutta la fase 2 per chiudere sulla valutazione degli elaborati e credo poi la cerimonia conclusiva senz'altro noi faremo la cerimonia conclusiva e la premiazione entro il 31 di dicembre nei primi mesi del prossimo anno pubblicheremo il libro pubblicheremo, mi piace dirlo, il libro sarà pubblicato da un vero editore chissà se nasceranno nuovi colleghi magari da questa esperienza chi lo può dire? io me lo auguro ma senz'altro spero che chi ha il pallino della scrittura trovi il coraggio di esporsi adesso è giunto il momento dello spazio con le notizie dell'Aquila a cura del capoluogo.it buongiorno e bentornati all'appuntamento con l'informazione con il Tg delle 13 del capoluogo questa mattina all'Aquila si parla molto del problema verdeacqua gli impianti chiusi è un futuro da riscrivere illegittima la proroga di 25 anni della gestione di verdeacqua e tanto stupore fra gli utenti che avevano già attivato i loro abbonamenti terremoto 2016 finiti i fondi e questa è la terribile comunicazione che la protezione civile ha fatto ai comuni della regione Marche che non possono prendere impegni di spesa legati al danno da terremoto che ha colpito duramente il centro Italia nel 2016 autostrade il governo svuota le casse della regione Abruzzo proprio questa mattina il vicepresidente della regione facente funzioni Giovanni Lolli e il direttore generale della regione Abruzzo Vincenzo Rivera hanno illustrato con documenti alla mano le comunicazioni fra regione e ministero sui fondi della messa in sicurezza delle autostrade della regione Abruzzo e torna alla ribalta dei social e questa volta sicuramente è il caso di dirlo il caso Taffo e già perché dopo il grande successo dell'acqua limited edition della Ferragni la Taffo Funeral Service ha promosso sui social una grande iniziativa l'acqua Taffo che ha spopolato il cui ricavato andrà a sostegno dei medici senza frontiere ed è subito un grande virale social una notizia terribile accolto questa mattina alla città dell'Aquila è venuta a mancare all'età di 42 anni la giovane iscrittrice Manuela Ardingo dalla redazione del capoluogo le più sentite condoglianze alla famiglia ed ieri pomeriggio invece una notizia che ci riporta nell'Interland aquilano e nella fattispecie a San Demedrio proprio con la chiesa dell'Annunziata dove dopo le tante polemiche dell'abbandono di questa chiesa e quindi dopo uno scambio di lettere da parte del sindaco di San Demedrio Silvano Cappelli si è giunti finalmente ad individuare chi debba occuparsi di questa chiesa abbandonata da più di dieci anni ed è la curia che effettivamente si deve attivare per risolvere la situazione di degrado della chiesa della Santissima Annunziata quindi sono tantissime le notizie che giustamente sono state pubblicate questa mattina sul capoluogo le visite oculistiche per i bambini non collaboranti appunto dell'autismo i pasticci di ale che tornano con una ricetta veramente gustosa delle coppette oreo e tantissime altre notizie che trovate sul capoluogo come sempre chiudiamo questo appuntamento con l'informazione con il meteo poco nuvoloso miglioramento nel pomeriggio come ci avevano anticipato ieri dovrebbe migliorare il tempo nel fine settimana e soprattutto nella giornata di sabato anche se non mancheranno foschi e dense ed occasionali speriamo che questa nebbia non ci rovini il fine settimana quindi buon fine settimana a tutti l'appuntamento con l'informazione del capoluogo è per lunedì alle ore 13 da Roberta Galeotti e dalla redazione del capoluogo buon weekend a tutti adesso c'è un aggiornamento di cronaca riguardante un'operazione coordinata dai carabinieri di Ascoli Piceno ma che sta interessando anche l'Abruzzo i carabinieri di Ascoli dunque hanno eseguito 15 misure cautelari 5 custodie in carcere a carico di soggetti originari del Foggiano e 10 obblighi di dimora nei confronti di persone accusate di reati che vanno dall'Associazione per delinquere finalizzata ai furti alla ricettazione di autovetture al concorso in furto e tentato furto aggravato e continuato di auto i colpi sono stati messi a segno nel corso dell'ultimo anno lungo tutta la zona costiera adriatica da Rimini a Taranto l'operazione che si è sviluppata tra Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto, Cerignola e Vasto per quanto riguarda l'Abruzzo è scattata sulla base di un'ordinanza del GIP presso il Tribunale di Ascoli chiesta dalla locale procura le indagini sono cominciate nel 2017 quando in provincia di Ascoli vennero registrati decine di furti di autovetture caratterizzati dallo stesso modus operandi lasciamo questo aggiornamento di cronaca non ce ne sono altri così prima di concludere come al solito possiamo vedere la programmazione cinematografica per quanto riguarda la multisala Ijoland di Corfinio sono in programmazione i film Johnny English colpisce ancora con proiezioni alle 18 e alle 21 e 10 Star is Born con proiezioni alle 18 e 20 e 21 e 10 Smallfoot il mio amico delle nevi unica proiezione alle ore 18 Venom anche qui c'è un'unica proiezione alle 21 e 10 Per quanto riguarda il cinema pacifico di Sulmona prosegue dunque la programmazione con il film Titanic dunque un'iniziativa, una novità sicuramente per il cinema pacifico di Sulmona che ha inteso riproporre questo film per celebrare i 20 anni dunque Titanic che celebra i 20 anni e dunque il cinema pacifico di Sulmona offre a tutti i cittadini di Sulmona non solo la possibilità di seguire il film Titanic proiezione fino a domenica 14 ottobre ogni giorno alle 17 e 30 mentre per quanto riguarda la programmazione serale al Pacifico c'è Black Classman alle ore 21 è tutto per questa edizione del giorno del nostro telegiornale grazie della cortesa attenzione prossimo appuntamento con l'informazione in diretta questa sera alle ore 20 ci salutiamo con il meteo buona giornata sulla nostra regione condizioni di cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso con foschi e densi e occasionali banchi di nebbia specie nelle valli interne dell'Aquilano sulla Marsica e localmente sulle zone collinari che si affacciano sul versante adriatico non si escludono deboli precipitazioni specie sull'Alto Sangro assisteremo poi ad un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche con ampie schiarite ad iniziare dal Teramano in estensione verso le restanti zone entro la serata temperature generalmente stazionarie venti deboli dai quadranti orientali lungo la fascia costiera occidentali altrove mare quasi calmo poco mosso intemporaneo meno lungo la fascia costiera